Circa 12 chili di eroina confezionata in 20 panetti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'auto bloccata per controlli nelle campagne di San Severo. Tre persone e due albanesi e un sanseverese sono stati arrestate. Nel quadro dell'intensificazione delle attività di controllo del territorio e di indagini a contrasto della criminalità comune organizzata nell'area di San Severo, i finanzieri della locale compagnia alcuni giorni fa hanno individuato un fondo agricolo vicino al centro abitato interessato da frequentazioni sospette. I ripetuti sopralluoghi e postamenti notturni eseguiti dalle fiamme gialle hanno consentito di verificare in prossimità del fondo la presenza ingiustificata di autovetture intestate a pregiudicati per reati in materia di stupefacente. Nella terza serata del 22 luglio scorso constatata nuovamente la presenza delle autovetture monitorate, i finanzieri della compagnia di San Severo sono entrati nel fondo e qui hanno individuato tre che alla vista dei militari hanno cercato senza riuscirvi di far perdere le proprie tracce. In una delle autovetture immediatamente perquisiti i finanzieri hanno rivenuto all'interno di una sacca in tela 20 panetti avvolti da cellofan contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di circa 12 chilogrammi. In ciascun involucro evidentemente per sviare i controlli delle unità cinofile sono state rilevate tracce di gasolio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro mentre i tre responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato di traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrate anche le tre autovetture e i sette telefoni cellulari nella disponibilità degli arrestati. Come emerso dagli esami tecnici dal quantitativo di eroina sequestrata di altissima qualità sarebbero state ricavate circa 30.000 dosi che una volta immesse nel mercato illegale dello spaccio avrebbero fruttato all'organizzazione criminale circa un milione di euro.